A 15 anni della tragedia, l'Aquila si appresta a commemorare ed onorare le 309 vittime che nella notte tra il 5 ed il 6 di aprile 2009 persero la vita a causa del terremoto che colpì il capologo di Abruzzo ed altri 56 comuni. Oltre alla fiaccolata prevista nella serata di venerdì 5 aprile e alle celebrazioni religiose a cura dell'Arcidiocesi, in calendario una serie di appuntamenti, molti dei quali promossi a seguito dell'avviso pubblico del Comune dell'Aquila e rivolto ad istituzioni culturali, enti, associazioni e comitati finalizzato alla promozione di iniziative per continuare a coltivare la memoria di chi ci ha lasciato e mantenerne vivo il ricordo. Il percorso del corteo si snoderà lungo via 20 settembre a partire dalle 21.30 con una breve sosta di fronte alla Casa dello Studente e si concluderà al Parco della Memoria dove a seguito dell'accensione del Bracere verrà data lettura dei nomi delle vittime del terremoto. Quest'anno, a causa dei lavori in corso su Piazza Duomo, il fascio di luce in ricordo delle vittime sarà acceso da Palazzo Margherita. A livello logistico i cittadini con disabilità motoria potranno raggiungere il Parco della Memoria con l'automobile fino alle 22.30 con accesso previsto da Via Delfi con i pressi del Gran Sasso Science Institute ex ISEF dove il personale del Comune dell'Aquila sarà a disposizione per accompagnarli nell'area della cerimonia. Per l'occasione, infine, il tunnel di Collemaggio tra il Terminal Bus Lorenzo Natale e Piazza Duomo rimarrà aperto tutta la notte. Il Fiore della Memoria, la spilla raffigurante, il Fiore di Zafferano da indossare nei giorni delle commemorazioni è disponibile gratuitamente nelle tabaccherie aderenti al circuito Fit ed è stata distribuita negli istituti scolastici di ogni ordine e grado mentre sui canali social tornerà la campagna Accendi la tua luce.